Ben ritrovati con l'appuntamento meteo. Dopo il passaggio del fronte perturbato che sta lasciando la nostra penisola proprio in queste ore serali, le temperature stanno rapidamente tornando vicino a quelle che sono le medie del periodo e sarà così anche per domani. Il cielo rimarrà a tratti coperto un po' su tutta l'Italia ma in grado all'ulteriore miglioramento con piogge sempre più ridotte. La fase più tranquilla è però destinata ad essere breve perché già ad inizio settimana prossima una nuova perturbazione atlantica sembra intenzionata a puntare verso il Mediterraneo e favorire altro intenso maltempo. In Abruzzo vivremo una domenica con tempo a tratti nuvolose e con possibili deboli precipitazioni ma che andranno via via attenuandosi con il passare delle ore. La ventilazione sarà debole di direzione variabile e a regime di brezza sulle aree costiere, il mare quasi calmo. Le temperature minime di questa notte comprese tra 9 e 17 gradi e le massime di domani in ulteriore diminuzione comprese tra 14 e 21 gradi. Per il meteo è tutto, vi auguro una buona domenica, le previsioni su Super G tornano lunedì mattina. Grazie.